E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning With Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì a venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo la notte andremo ad approfondire un report molto interessante di Pantera Capital andremo a capire se ha senso o meno tenendo in considerazione parleremo dei movimenti anche di oggi riguardo la Fed appunto Powell parlerà al Giacomo Ma detto ciò non perdiamo altro tempo come sempre se vi fa piacere supportare il canale trovate qua sotto in descrizione tutti i link che vi danno i maggiori sconti per i principali servizi del settore e in più ricordate di iscrivervi insomma col clic sulla campanellina per poter ricevere questi contenuti on time quando serve perché chi mi segue lo sa quando arriva un problema o c'è un motivo per cui aggiornarvi è tempestivo ok quindi è l'unico modo per farlo in diretta praticamente detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo Partiamo proprio dal piatto forte cioè quello del report di Pantera Capital che sappiamo essere comunque una compagnia abbastanza bullish sul settore ma che ha fatto un po' un report basato sui precedenti cicli di Bitcoin sull'effetto che potrà avere l'Halving l'anno prossimo Ricordiamoci che a mio parere dal 2024 in poi si parlerà di Halving sarà l'anno appunto dell'Halving e come giusto che sia ci saranno parecchie narrative a riguardo quindi è giusto che anche noi iniziamo un pochino a entrare in quella sfera Ecco che loro attraverso uno stock to flow che per qualcuno si ricorderà un po' è un po' il metodo di plan B però preso come lo utilizzano loro cioè utilizzando delle metriche un pochino meno accentuate basate un po' di più sulla storicità anche dell'ultimo ciclo che abbiamo appena vissuto hanno dato una proiezione ovvero la proiezione è che al giorno dell'Halving che è stimato qui verso il 20 aprile dovrebbe arrivare un prezzo circa di 35.448 dollari a prendere estremamente con le pinze dopodiché dovrebbe innescarsi un rally del 4,2 per che porterebbe il prezzo a 147.000 dollari circa di top questo come è stato fatto come ho detto prima attraverso il modello di stock to flow e alla riduzione dell'offerta che porterà l'Halving è ovvio che vedete anche storicamente come gli impatti di ogni Halving pre post nei cicli di bull market siano sempre inferiori cioè non c'è mai più non c'è più stato un 30 per un 93 per infatti l'ultimo ciclo ha avuto un 7,8 per che sono ottimi numeri comunque anche un 4,2 per sulle cifre in cui stiamo parlando oggi è un ottimo numero però capite che perde di potenza e perde di forza come è ovvio che sia questo perché anche fanno vedere quanto impatta nella riduzione della nova supply questo Halving impatterà all'1,1% e guardate un po' insomma come gli Halving siano stati estremamente impattanti, estremamente forti nella prima fase di bitcoin da 25 siamo passati a 12,5 prima la natura a 50 bitcoin da 50 a 25, 12,5 6,25 ora parliamo di 3,12 circa capite che andranno a essere praticamente la stragrande maggioranza già tutti minati poi si inizierà a parlare al prossimo Halving dell'1,5, 1,55 se non sbaglio basta fare diviso 2 con la calcolatrice e capite che di conseguenza l'impatto sarà sempre più basso e quindi sarà un po' l'emancipazione di bitcoin quella che dovrà portarlo a sostenersi con le sue mani senza per forza un impatto dovuto da un Halving che vada a dimezzare perché l'impatto sarà sempre più basso e le percentuali saranno sempre più basse questo lo vedremo nel tempo soprattutto nella storia che avrà bitcoin di come verrà applicato, inglobato nella finanza che conosciamo dagli istituzionali quanto riuscirà a emergere e entrare nell'economia di tutti i giorni e soprattutto quanto verrà appunto sostenuto dalle community lo vedremo sicuramente nei prossimi anni e quindi insomma si arriva a questa previsione come vi dicevo prima insomma di 147.000 dollari di top fatemi sapere cosa ne pensate anche voi io personalmente lo sapete preferisco fare le cose dei buy day infatti faccio dei video giornalieri cerco di seguire il mercato con voi cercando di darvi le informazioni che possono aiutarvi nelle vostre giornate ogni giorno quindi non mi piace fare le previsioni della sfera di cristallo perché spesso possono essere un po' buttate lì a bozzate e lo sapete nel trading e negli investimenti andare a occhio per fede ok è un pochino pericoloso però insomma tant'è la ricerca di Pantera Capital che comunque è un istituzionale di tutto rispetto altrimenti il rischio è sempre quello mi fa morire cioè il fatto che si arriva sempre psicologicamente a sta cosa qua cioè abbiamo la fase di bull market era ovvio poi abbiamo il bear market è finita basta poi bull market è nei top è lo sapevo che andava così è finita l'ultimo che abbiamo fatto era ovvio che facevamo questi numeri e ancora oggi siamo è finita guardate quanta rabbia c'è su twitter guardate quanta rabbia c'è nei video guardate quante cose che sono tutte emotività ragazzi tutte emotività di parecchie persone che purtroppo ragionano in questo modo qui ed è il modo perfetto per comprare qua e vendere qua comprare qua e vendere qua purtroppo ripeto non faccio non do consigli di investimento finanziario proprio per questo perché diventa pericoloso nella gestione della propria emotività bisogna lavorare bene su se stessi per questo ci sono anche dei percorsi appunto che trovate sul nostro sito ma non mi interessa tanto starli a parlare è più una questione ripeto di se stessi di come si approcciano questi mercati che sono estremamente complessi ve lo assicuro quindi quando ci entrate dovete mettervelo bene in testa che non è tutto semplice non sono soldi facili le cripto ok quando lo capirete iniziate a farli altrimenti li perdete poco ma sicuro invece una cosa utile che io vi ricordo quasi settimanalmente ma perché io credo sia estremamente importante se ne volete fare le cose fatte bene è quella di tenere traccia le vostre transazioni per le vostre dichiarazioni vogliamo andare verso un mondo emancipato un mondo delle cripto inglobato bene bisogna essere appunto anche capace di dimostrare un poco quella che è la propria storicità per questo vi è il nostro aiuto coin tracking che ha più di un milione e quattrocento mila utenti cioè da praticamente l'inizio del settore e ha la possibilità di integrare qualsiasi exchange praticamente cioè ci sono alcuni che non ho anche mai sentito in più ve li fa anche importare dalle blockchain direttamente in più ve li fa importare anche dai csv vi genera dei report fiscali che potete andare a generare anche gratuitamente se vi scrivete col link qua sotto eventualmente il 10 per cento di sconto se avete molte transazioni per generare questi report che vengono fuori in questo modo qua dove avete adesso io qua c'ho scusate ma io qua c'ho la visualizzazione eccolo qua questo è un report di prova ma vi fa vedere qualsiasi cosa le transazioni le vostre giacenze quelle che sono le vostre le vostre chiavi e tutto quanto chiavi no chiavi private no le vostre ap key che avete utilizzato per fare queste cose insomma vi da tutti i dati finali con i quali potete andare a inserirli direttamente in dichiarazione molto interessante dategli un'occhiata se vi fa piacere detto questo andiamo sui gainers e losers di coinmarketcap gainers bond fa un più 11% poi niente stablecoin tra i losers ne abbiamo sicuramente di più pepe che fa un meno 20% dovuto a un po' di problemi sui multisig trasferimenti a exchange insomma cose un po' così direi che è un po' un classico delle mcoin vedere queste robe qua di base insomma sapete no come la penso su queste situazioni sui un meno 9 qcoin un meno 8 immutable un meno 7 maker un meno 7 conflux un meno 7 insomma siamo su quelle cifre lì questo perché bitcoin a giornata di ieri è andato a riportarsi da dove era da dove è arrivato ok tornando sulla zona dei 26 mila dollari che ora per per scramanzia non vi dico che è una stablecoin perché l'ultima volta che lo abbiamo detto abbiamo avuto un bel dump ma in ogni caso lo vedete a livello giornaliero questo questa resistenza ha lavorato esattamente come ci aspettavamo da resistenza già discusso una giornata ieri questa zona qua front ha nata leggermente ha lavorato come supporto quindi adesso iniziamo a sostare in questo range ma era quello di cui parlavo cioè quando andate da vedere se non avete visto il video del dump in questa giornata qua 17-18 io ho detto lo scenario più probabile non è né continuare giù a zero né andare a fare i v-shape è quando c'è un movimento di questo genere qua e con open interest che va a scaricare in quel modo è la sideways lateralizzazione infatti i dati ci danno ragione questi sono i dati di open interest aggregato guardate cosa sta succedendo open interest che dopo questo calo importantissimo ok che è arrivato nelle giornate precedenti no perché sono su bnb ho sbagliato scusatemi se andiamo su bitcoin nelle giornate precedenti abbiamo avuto questo dump questo calo di bitcoin lo vedete poi non andando a recuperare open interest il prezzo rimane sideways perché c'è poca benzina c'è poca sostanza stessa cosa vale per il founding rate che è molto laterale non ha direzionalità forte e anche le liquidazioni non praticamente insignificanti ok questo dovuto proprio alle condizioni di mercato di bitcoin una dominance che in realtà sta andando leggermente nella strada anche lei della lateralità dopo questo piccolo recupero è avuto un po' di scarico ma siamo un po' lì su 49,25 infatti alcune del coin ne hanno approfittato ma poi vedete danno indietro allo stesso modo in maniera abbastanza aggressiva e veloce nel momento in cui si hanno degli scarichi di bitcoin lo abbiamo visto sui principali mercati ok quindi per quello andiamo a analizzare in questa fase soprattutto quello che è bitcoin detto ciò ancora una volta ragazzi mi fermo vi auguro una splendida weekend fatemi sapere anche voi cosa ne pensate al riguardo trovate questo in descrizione tutti i link appunto del canale trovate il modo di lasciare un like di supporto un'iscrizione se siete nuovi noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi